Amo tantissimo la musica dal vivo, la musica che possa esistere insieme al movimento e quindi coesistere, che insieme danno vita a qualcosa che esiste in quel momento per la prima volta, anche se è già stata costruita o provata, ma la forza del teatro e della danza dal vivo sono proprio questo. Danzare con uno strumento che suona dal vivo, beh...